I ragazzi dell'Under 18 Elite della polisportiva L'Aquila Rugby sono matematicamente nella pool Scudetto, conquistata con un turno di anticipo rispetto al previsto. Battendo la compagine della Lazio Rugby per 38 a 12 in casa nel campo di Centicolella, hanno conquistato il matematico accesso alla pool. Un risultato importantissimo per i ragazzi dei coach Roberto D'Antonio e Luigi Milani, che portano e porteranno alto il nome della città dell'Aquila. Nonostante una stagione un po' sfortunata per via degli infortuni o corsi agli atleti, il 15 Aquilano ha sempre occupato le posizioni di vertice della classifica, dimostrando attaccamento ai colori e amore per la maglia. A darsi battaglia nella parte alta della classifica, oltre all'Aquila, anche la formazione giovanile delle Fiamme Oro e la Capitolina Rugby. Un rugby altissimo, quello mostrato al pubblico dalle tre compagini, rugby davvero di alto livello. Per i ragazzi aquilani ora arriva la fase più dura del loro percorso, quella dei play-off, che assegneranno il tricolore giovanile, lo scudetto, il massimo titolo dopo il trofeo di eccellenza. Il buon lavoro portato avanti dalla struttura aquilana, tra l'altro, come è noto, ha riscosso anche il plauso dei tecnici della Federazione Italiana Rugby, la FIR, che hanno convocato nella Nazionale Under 17 l'atleta Andrea Angelone e nella 18 l'atleta Angelo Maurizzi.